Mario Monti in piena campagna elettorale, in una nuova intervista ad Uno Mattina il Premier non risparmia critiche a sinistra e a destra, chiede a Bersani il coraggio di tagliare le ali estreme, silenziare Fassina e Vendola, definisce Berlusconi volatile nei giudizi e lancia una frecciata anche a Brunetta, sta portando il PDL su posizioni estreme e settarie. Immediate le reazioni, insorgono i big del PDL, furioso Brunetta, Monti svela la sua vera natura di tecnocatre, autoritario e pasticcione, intimare al silenzio ci riporta a tempi bui, Berlusconi il Premier dice bugie con lo stipendio sicuro, Bersani tace ma per il PD parla Marina Sereni, il presidente Monti ha dismesso la sua proverbiale sobrietà contro di noi argomenti fasulli. Mercati europei cauti dopo l'euforia di ieri, lo spread resta intorno a quota 285 punti, migliorano i conti del fabbisogno dello Stato, sceso di quasi 15 miliardi nel 2012. I dati dell'Ocse confermano però che nel rapporto tra entrate e prodotti interno lordo l'Italia è tra i paesi con il maggiore carico fiscale. Ascoltati in procura a Roma, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri accusati dalle autorità indiane di aver ucciso lo scorso 15 febbraio due pescatori scambiati per pirati. Domani scade la licenza concessa dall'alta corte del Kerala, i due militari che torneranno in India per essere processati anche se la farnesina contesta il diritto di giurisdizione. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Sette, dunque Mario Monti dopo Radio Antì e Anchì oggi è intervenuto a 1 mattina per spiegare i contenuti del soggetto politico che ha scelto di rappresentare tra i temi affrontati l'alleanza con il PD a patto che Bersani tagli le frange estreme e conservatrici che impediscono le riforme. critiche anche nei confronti del PDL e soprattutto di Brunetta che ha ostacolato la concorrenza, ha detto il professore, che ha parlato anche del nome della lista, ha fatto un riferimento al nome della lista. Sentiamo il servizio. Io spero che Bersani convinca ma non vinca, per esempio. L'affondo mediatico di Monti non va per il sottile anche stamattina dagli studi televisivi di 1 mattina, mena fendenti a sinistra come a destra. Se il presidente Berlusconi ritiene che io sia poco credibile vuol dire che sono poco credibile rispetto il suo giudizio che non è l'unico che esiste su di me. È un giudizio molto importante, autorevole e di persona che ha dimostrato peraltro una certa volatilità di giudizio sulle vicende umane e politiche negli ultimi tempi. Dunque il professore, ormai lanciato nella sua offensiva trasversale con lo scopo di attrarre a sé i riformatori di entrambi gli schieramenti, divide sulla sua ideale lavagna i buoni dai cattivi. Tanto che arriva a dare consigli spregiudicati per primo a Bersani a cui consiglia di tagliare le ali estreme. Io credo che tagliare le ali, che in genere è una brutta espressione, ma se per ali intendiamo le estreme, credo che sia una buona cosa. Dovrebbe con un atto coraggioso silenziare un po' questa parte che io considero conservatrice del suo movimento. Nel mirino ancora fassine e vendole, quelle che Monti giudica posizioni estreme e conservatrici, in particolare sulla politica del lavoro. Ma Monti se la prende anche con chi nel PDL è altrettanto estremista, quel brunetta che spiega il professore posizione il partito di Berlusconi su posizioni settarie. Non mi schiero con nessuno, ribadisce Monti, ma mi schiero sulle idee. Ma il premier uscente sa di doversi scrollare di dosso quello che lui stesso ha definito la cattiveria del tassatore, ma per farlo c'è bisogno di un Monti bis. Nella nuova agenda ribadisce dunque di tagliare le tasse, grazie alla lotta all'evasione e al controllo della spesa. Qualsiasi altro intervento sarebbe da prestigiatori, dice. Ma l'offensiva elettorale non finisce qui. Tutta la nostra agenda mira smitizzare i luoghi comuni. Non si può catturare la buona fede della gente sulla patrimoniale o sui temi etici, bollando queste critiche come polemiche di bassa lega. Senza dimenticare aggiunge quanto fatto in passato quando era commissario europeo antitrust per combattere lobby potentissime come Microsoft e General Electric. E' a Fassina che aveva paragonato la lista Monti ad una lista Rotary che dimentica i più deboli Monti replica. E' simpatica l'immagine dell'onorevole Fassina. Io non la conosco ancora la lista Monti, si vede che lui ha già una buona immaginazione. Con Monti per l'Italia, conferma lui stesso, sarà così intitolata la lista che a giorni vedrà la luce, per la quale il professore si spenderà solo perché spinto dalla gente comune, perché anche oggi Monti conferma che non si sarebbe voluto candidare. Sono sceso dalle altezze di senatore a vita e salito in politica per coscienza, per contribuire a trasformare l'Italia in un paese moderno. Queste dunque le parole di Mario Monti e non si sono fatte attendere le repliche di PD e soprattutto delle PDL. Sentiamo. Nessuna reazione, nessuna replica. Il segretario del PD, Pierluigi Bersani, risponde per ora con il silenzio agli attacchi di Mario Monti, che oggi è tornato all'assalto, chiedendo al leader democratico di rompere definitivamente con le ali estreme della sinistra, politiche e sindacali, e soprattutto chiedendogli di silenziare il suo responsabile economico Stefano Fassina. Dal PD replica Marina Sereni. Sarebbe opportuno che Monti evitasse di usare argomenti fasuli sul Partito Democratico, la cui serietà e cultura riformista è testimoniata dal sostegno leale e propositivo che abbiamo sempre garantito all'esecutivo. Monti spieghi le sue ragioni, ma eviti di fare la caricatura del PD, spiega l'esponente democratica. Dura la replica del segretario della CGL, Susanna Camusso, inserita dal premier nel blocco dei conservatori. Chi ha deciso di candidarsi alle elezioni dovrebbe discutere dei suoi programmi, trovo abbia poche proposte e molte critiche, dice la Camusso. Dal PDL replica un altro dei bersagli degli attacchi di Monti, Renato Brunetta. Con le sue parole di stamattina il professor Monti svela la sua natura più profonda, che è quella del tecnocrate, autoritario, disinformato e pasticcione, dice Brunetta. Tutto mi divide sul piano dei contenuti da Stefano Fassina, ma farò ogni sforzo perché nessuno possa ridurre lui o altri al silenzio. Intimare il silenzio a qualcuno prosegue, mentre si ricopre il ruolo del capo del governo, non ha cittadinanza in democrazia, ma ci riporta a tempi bui e dolorosi. Il presidente Monti non sembra più un presidente del Consiglio tecnico, ma un demagogo alla caccia dei voti, attacca sempre dal PDL Fabrizio Cicchitto. Del resto, prosegue, solo un demagogo può dire che si impegna a diminuire la pressione fiscale nel prossimo anno, avendo come presidente del Consiglio preso provvedimenti che accentuano la pressione fiscale anche nei prossimi anni. Berlusconi invece si lamenta dell'eccessiva presenza del premier in tv. Se lo fa lui va bene, se lo faccio io è scandalo, dice l'ex premier che attacca. Monti dice solo bugie, i professori non accettano mai di essere contraddetti, sono lontani dalle realtà, guardano solo dal buco della seratura e hanno uno stipendio sicuro. In questo momento è arrivata anche la replica di Vendola. Monti è sceso pesantemente in campo con la presunzione di chi vuole partecipare, ma vuole anche sentirsi arbitro della partita e decidere chi ha vinto questa partita. L'ha vinta lui. C'è un elemento di arroganza che va respinto. Queste dunque le parole di Vendola. Ma nel servizio abbiamo sentito anche Berlusconi, che questa mattina è intervenuto a radio anch'io. Contiamo di arrivare al 40%. Ha detto tra l'altro il cavariere pronto a cedere il posto ad un altro premier nel caso vincesse il centrodestra. Un'apertura apprezzata anche dalla Lega, che ha sempre chiesto a Berlusconi di fare un passo indietro. Berlusconi sempre altalenante. Un giorno fa la voce grossa con la Lega, il giorno dopo distribuisce carezze. Un giorno dichiara che il candidato premier del centrodestra sarà lui e il giorno seguente a una precisa domanda risponde. Se vinco le elezioni non è detto che io debba essere per forza presidente del Consiglio. Una dichiarazione importante su cui si sente di garantire il segretario del PD è l'Angelino Alfano, che si dichiara ottimista sulla riuscita dell'accordo col Carroccio e assicura che una volta ritrovata l'armonia, anche Formigoni in Lombardia appoggerà Maroni, candidato governatore. La retromarcia rispetto a solo i due giorni fa del cavaliere potrebbe essere il frutto delle ultime trattative tra i due partiti. Incontri intensificati dopo i colloqui di tre ore nella residenza milanese di Berlusconi che avevano portato alla quasi rottura definitiva. Una dichiarazione chiara che a questo punto sarà difficile per la Lega rifiutare. Aveva sempre chiesto un passo indietro di Berlusconi e salvo nuovi colpi di scena. Così sarà, anche perché, come la legge attuale prevede, le coalizioni debbano indicare il leader mentre poi a scegliere il Premier, a elezioni avvenute, sarà il Presidente della Repubblica. Le discussioni di queste ore vertono tutte sul programma ed in particolare sulla richiesta del Carroccio che ogni regione mantenga sul proprio territorio il 75% delle tasse è considerata dal segretario della Lega Nord Maroni la madre di tutte le battaglie. Un punto che il PDL, che è molto radicato a Sud, fa fatica ad accettare. In ogni caso, un tema di discussione è anche quello di un progetto Sud. L'idea, cioè di Berlusconi, di fare una lista unica da presentare a Senato e alla Camera, alleata delle PDL, che ruota intorno ai governatori azzurri del Meridione. Un'alleanza a livello nazionale complicata, secondo il segretario della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Ma non sarà facile per Maroni arrivare a un'intesa definitiva, perché la base non vede di buon occhio le indiscrizioni che circolano sull'accordo. E un dirigente di primo piano del partito, come Flavio Tosi, dichiara apertamente che le minacce di Berlusconi di far cadere le giunte regionali di Veneto e Piemonte lo fanno solo sorridere. Molti come lui sono convinti che il candidato Priemer debba essere un uomo superparte, se credibile, come l'ex ministro Corrado Passara, un nome che il PDL non accetterà mai. Si vedrà nelle prossime ore, al termine del delicato summit di questo pomeriggio, a Palazzo Grazioli. E ora andiamo alle notizie economiche, perché diciamo così è durata soltanto un giorno l'euforia delle borse europee, che ieri hanno brindato all'accordo sul fiscal cliff. A metà mattina i mercati erano tutti in calo, con il segno negativo anche piazza affari, mentre lo spread si attesta sempre sotto la soglia monti. 286 punti in questo momento è lo spread. Dopo l'euforia di ieri, oggi i mercati finanziari europei tirano il fiato. All'entusiasmo in arrivo dall'America sull'accordo raggiunto per evitare il baratro fiscale, e infatti segue l'amaro realismo dettato dall'andamento negativo dei settori bancario e dell'auto. E non solo. Nelle prossime ore gli investitori conosceranno anche i dati macro sui mutui e sulle vendite di vetture negli Stati Uniti. All'apertura dei listini in calo segue una lenta risalita, che però resta sotto lo zero. In Italia la vendita di auto nel mese di dicembre è scesa del 22,5% rispetto allo stesso mese del 2011. Questo, a piazza affari, penalizza il titolo Fiat, ma non va meglio agli energetici e ai creditizi. Lo spread in compenso si attesta sotto quota 285, sotto cioè la cosiddetta soglia Monti, individuata in 287 dal Premier come suo obiettivo. Il rendimento dei BTP è al 4,29%. L'euro risale la china nei confronti del dollaro. Oggi il cambio tra la moneta europea e il biglietto verde è a 1,31,48, ma la Banca Centrale Europea punta il dito contro il calo dei prestiti a famiglie ed imprese nell'eurozona. A novembre scendono per il settimo mese consecutivo, meno 0,8% su base annua e meno 0,1 rispetto ad ottobre. Un segnale negativo, l'onda lunga del calo dei tassi tarda ancora a raggiungere famiglie ed imprese. Così, sebbene i rendimenti dei nostri titoli di Stato siano scesi, quelli dei mutui restano alti. Secondo Banca Italia il costo medio di un prestito per comprare casa è salito dal 3,4% del 2010 al 4,2% di oggi. E se l'Italia si batte con i problemi consueti, la Grecia affronta uno scontro politico sempre più aspro. I partiti che sostengono il governo Samaras si battono contro l'opposizione sulla cosiddetta lista Lagarde, l'elenco cioè dei nomi di oltre 2.000 greci con conto corrente in Svizzera. L'ex ministro delle finanze greco, Papa Costantino, che aveva ricevuto la lista nel 2010 da Christine Lagarde, all'epoca sua omologa in Francia e oggi direttore del Fondo Monetario Internazionale, è accusato di aver rimosso i nomi di tre suoi parenti dal documento. Srizza, della sinistra radicale e primo partito dell'opposizione, chiede che l'appena costituita commissione di indagine parlamentare metta sotto inchiesta Papa Costantino e il leader del partito socialista PASOC, Venizelos. Se Limo ha fatto piangere gli italiani proprio dalla tassa sulla casa, è arrivata però una boccata d'ossigeno nei confronti dei conti pubblici dello Stato che sono nettamente migliorate rispetto al 2011. Se l'effetto della tassa sulla casa saldata nemmeno un mese fa ancora si fa sentire sul portafoglio di molti, qualche motivo di consolazione arriva già dai conti dello Stato. È grazie ai 13 miliardi e mezzo di euro della seconda rata dell'Imu che i numeri appena chiusi del fabbisogno statale segnano un netto miglioramento. Dai 63 miliardi e 800 milioni di euro del 2011 siamo passati l'anno scorso a 48 miliardi e mezzo, segno insomma che il sacrificio è stato tutt'altro che vano. In positivo, con un miliardo e 700 milioni di entrate, ha contribuito la vendita alla cassa depositi e prestiti delle quote statali di Sace e Simest e se poi non ci fosse stata da versare la quota di competenza dell'Italia al fondo, salva Stati e europeo, l'ESM, sarebbe andata anche meglio con un calo ulteriore, fin sotto i 43 miliardi di euro. Ma sono soldi ben spesi, se è vero che proprio la messa in pista di questo meccanismo europeo ha consentito agli speculatori di darsi una calmata facendo respirare il nostro spread con conseguente risparmio per la spesa in interessi. Il risultato più significativo salta agli occhi se si confronta la situazione del fabbisogno statale 2012 con quello di quattro anni prima. Nel 2009, infatti, si toccò la quota record di 86 miliardi e 800 milioni di euro, quasi il doppio. Ovvio però che la medaglia di faccia ne ha sempre due e i dati dell'Ocse confermano ancora una volta che nel rapporto tra entrate e prodotto interno lordo l'Italia è tra i paesi col maggiore carico fiscale, con il 42,9%. La Germania si ferma intorno al 37%, gli Stati Uniti al 25%. E c'è un'importante novità che riguarda il mondo della scuola dal 21 di gennaio. Chi dovrà iscrivere il proprio figlio a scuola lo dovrà fare appunto soltanto online, attraverso internet. Vediamo. Un computer e una connessione a internet. Da oggi per iscrivere i propri figli a scuola basterà questo. La riforma voluta dal ministro Profumo in linea con la Spending Review partirà il prossimo, 21 gennaio. Alta, moduli cartacee e code negli istituti. Basterà registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e compilare un modulo inserendo i dati dei genitori dello studente e quelli relativi alla scuola prescelta per l'anno scolastico 2013-2014. La riforma riguarda circa 1.700.000 studenti che devono iscriversi al primo anno di elementari, medie o scuole superiori. Per scegliere la scuola adatta ai propri figli ci sarà tempo fino al 28 febbraio e nel caso si fosse incerti su quale sia il giusto istituto nel quale immatricolarli, sempre sul sito del Ministero dell'Istruzione, nella sezione Scuola in chiaro sarà possibile informarsi sull'offerta didattica, sui servizi e le attività dei vari istituti. Per chi non fosse in grado di usufruire del servizio online basterà recarsi nelle segreterie della scuola scelta e rivolgersi al personale che compilerà insieme a voi il modulo al computer. Continua quindi la digitalizzazione fortemente evoluta dal Ministro Profumo dopo il concorzone per gli insegnanti effettuato con l'uso del PC e con esito recapitato all'istante la nuova consegna delle prove e dell'esame di maturità, non più booster recapitata a mano dai carabinieri nelle oltre 10.000 scuole d'Italia ma inviate attraverso un plico telematico anti-contraffazione. In pratica mail criptate che hanno permesso, secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, un risparmio di oltre 400.000 euro. Dopo aver trascorso le feste di Natale a casa, due fucilieri della Marina Abilitare torneranno domani mattina in India, partiranno oggi dall'Italia. Questa mattina intanto si sono recati in Procura, la Procura di Roma che indaga per omicidio volontario. Sentiamo. Sono arrivati a Roma nella notte i due marò del battaglione San Marco. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, senza clamori, hanno semplicemente fatto perdere le loro tracce in Puglia e sono apparsi nella capitale per recarsi in Procura a Piazzale Clodio. Una sosta solo di qualche ora perché li attende a un volo militare che li riporterà in India oggi stesso, con qualche ora di anticipo rispetto alla data del rientro fissata dai giudici di Kerala, venerdì 4 gennaio. È finita la licenza natalizia concessa dall'India e due fucilieri in cambio di una cauzione di 826 mila euro pagata dallo Stato italiano. Questa mattina hanno incontrato i magistrati Capaldo e Cinicola che indagano per omicidio volontario. Nessuna dichiarazione, solo sobrietà per una vicenda delicata che posa su fragili trame di diplomazia internazionale. Non verranno ascoltati invece dalla Procura militare i magistrati che indagano sulla violata consegna degli ordini si riservano ad incontrarli in seguito. Due inchieste parallele che vogliono far luce su quante accadute in mare il 15 febbraio di un anno fa quando i due marò in servizio sulla petroliere italiana Enrica Lexi fecero fuoco contro un peschereccio che secondo il racconto dei due fucilieri tentò di abbordare la nave con la tecnica dei pirati. Erano solo due pescatori, hanno sempre ribadito le autorità indiane. Il processo stabilirà qual è la verità, ma dove si terrà il dibattimento? E questa è la prima questione da risolvere. La Corte Suprema indiana è tornata al lavoro dopo la pausa natalizia e si pronuncerà al più presto. Per le autorità italiane l'incidente è accaduto in acque internazionali e quindi due militari devono essere giudicati in Italia. Acque contigue, ribadiscono gli indiani, il processo deve tenersi nel Kerala. In attesa che la Corte Suprema decida, il Tribunale di Collam ha fissato l'udienza per il 15 gennaio. Fino a quel giorno i fucilieri rimarranno in regime di libertà vigilata, con obbligo di firma. Aveva minacciato di rinunciare al passaporto francese per protestare contro la supertassa voluta dal presidente francese Hollande. Ebbene, Gérard Depardieu ha ottenuto da Putin la cittadinanza russa. Adieu France, Mosca, aspettami. Gérard Depardieu potrebbe far presto le valigie e trasferirsi in Russia. L'attore simbolo del cinema francese, in rotta di collisione con François Hollande e le sue politiche fiscali, ha trovato al Cremlino un Vladimir Putin pronto ad accoglierla a braccia aperte. La lotta dell'interprete di tanti film, da Asterix a Cyrano de Bergerac contro l'Eliseo, comincia quando il governo socialista introduce la tanto discussa legge che fissa una liquota del 75% per i redditi superiori al milione di euro. Una mossa che manda in bestia l'attore che, come diversi altri paperoni francesi, per sfuggire all'imposta decide di trasferire la residenza a Nechein, un paesino belga a pochi chilometri dal confine. La mossa scatena una valanga di critiche a sinistra. Il primo ministro francese, Eirot, definisce l'attore patetico. Depardieu, che è noto per il suo carattere non proprio accomodante, risponde con una lettera aperta su un settimanale. In cui ricorda di aver cominciato a lavorare giovanissimo, di aver sempre pagato regolarmente le tasse, e sostiene in particolare di aver arricchito il fisco, nel corso della sua strepitosa carriera, di ben 145 milioni di euro. E non cambia le sue intenzioni bellicose neanche dopo che la Corte Costituzionale francese boccia la legge di Hollande, sostenendo che crea discriminazioni inaccettabili nel sistema, visto che le tasse oltralpe non vengono calcolate in base al reddito del singolo, ma in base a quello di tutto il nucleo familiare. Depardieu confida ai suoi amici di aver comunque l'intenzione di prendere un nuovo passaporto, e che gliel'hanno già offerto il Belgio, il Montenegro e appunto la Russia, paese che l'attore frequenta da molto tempo e dove ha girato anche diversi spot pubblicitari, come quello che vedete per la banca sovietsky. Oggi Putin ha fatto pubblicare sul sito del Cremlino il decreto con cui concede il passaporto alla star francese. L'eventuale esilio del resto sarebbe dorato. L'ex patria del socialismo non perseguita certi grandi patrimoni. Tutt'altro, in Russia esiste solo una flat tax, un'unica aliquota uguale per tutti al 13%, per un milionario praticamente il paradiso. E intanto negli Stati Uniti il segretario di Stato americano Hillary Clinton è stata dimessa dall'ospedale dove era stata ricoverata il 30 dicembre per un coagulo di sangue che si è formato tra il cervello e la parete del cranio. I medici che la seguono costantemente hanno riscontrato progressi e si sono detti fiduciosi in un suo pieno recupero. Il capo della diplomazia americana nelle prossime settimane lascerà come previsto il suo incarico alla guida del Dipartimento di Stato quando il suo successore John Kerry avrà ricevuto la conferma della sua nomina anche dal Senato. E restiamo negli Stati Uniti perché sbarca proprio in America l'emittente più importante del mondo arabo Al Jazeera che ha comprato la tv americana Via Cavo fondata dall'allora vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore. Se l'informazione è potere, ebbene, dalla fine di quest'anno gli americani saranno un po' meno potenti. La tv del Qatar, Al Jazeera, ha infatti comprato per una cifra che in discrezioni vogliono vicina ai 500 milioni di dollari la tv americano Via Cavo, Current TV che ha due caratteristiche. La prima è di avere accesso diretto alle abitazioni di milioni di americani a seconda di essere stata fondata da Al Gore ex vicepresidente degli Stati Uniti nell'era Clinton vincitore col suo documentario sul riscaldamento globale di un premio Oscar nel 2006 e di un premio Nobel per la pace l'anno successivo un simbolo, insomma, che ha ceduto ai petrodollari con queste motivazioni. Current TV è stata creata con l'obiettivo di dar voce a chi non viene normalmente ascoltato ha detto Gore in un comunicato dire la verità al potere fornire punti di vista diversificati e indipendenti raccontare le storie che nessun altro racconta Al Jazeera ha gli stessi obiettivi, continua e come Current ritiene che i fatti e la verità portino a una migliore comprensione del mondo che ci circonda chissà se Obama la pensa allo stesso modo Al Jazeera, che oltre al canale arabo ne ha uno in inglese ha un obiettivo chiaro iniziare già quest'anno a trasmettere in America con un canale che produca notizie in inglese fatte in America e per gli americani certo si avvarrà del contributo del suo network globale ma è al cuore degli Stati Uniti che punta per avere audience col 60% di notizie prodotte entro i confini statunitensi l'idea è di fare le cose in grande come è grande il continente da coprire base a New York con uffici già esistenti ma anche Washington, Chicago, Miami e Los Angeles per poi aprire altre basi nel cuore dell'America profonda proprio per dar vita a un palinzesto e un flusso di notizie che si rivolga specificamente agli americani lo staff già presente negli USA verrà raddoppiato arrivando a 500 persone tra giornalisti e tecnici la CNN e le altre grandi tv a stelle e strisce sono avvisate e siamo al Sport si apre oggi ufficialmente la sessione invernale del calcio mercato ma molte trattative sono già a buon punto soprattutto per quanto riguarda il Milan si parte ufficialmente oggi meno di un mese alla ricerca dell'affare giusto movendosi tra la voglia di rafforzarsi e la necessità di risparmiare la società più attiva è il Milan la rivoluzione invernale annunciata da Adriano Gagliani vive ore decisive per la cessione di Pato al Corinthians è questione di dettagli l'accordo tra le società è stato trovato da tempo 15 milioni di euro l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in giornata domani invece Adriano Gagliani si dedicherà all'affare Robigno incontrando i vertici del Santos l'offerta del club paulista è ferma 7 milioni di euro il Milan ne chiede 10 Gagliani ha ribadito che non ci saranno sconti la strategia del club rossonero è nota da tempo vendere per cui acquistare l'obiettivo è un attaccante di prima fascia uno tra Didier Drogba e Mario Balotelli sul primo c'è da registrare il ritorno di fiamma della Juventus sempre alla ricerca di un centro avanti spinta dalla necessità di trovare un sostituto all'infortunato Bentrer e dalle non perfette condizioni fisiche di Vucinic Marotta non ha abbandonato l'idea di portare subito a Torino gli orente già bloccato a costo zero per l'estate l'operazione è però complessa sinora l'attertico Bilbao ha rispinto tutte le proposte bianconiere per un trasferimento immediato per questo sono allo studio altre soluzioni la più difficile riguarda Pablo Osvaldo ritenuto incedibile dal Roma la più semplice porta a Borriello che già un anno fa ha prodotto a Torino nel mercato di gennaio sono giorni decisivi anche per il futuro di Snyder che questa mattina è tornato ad allenarsi ad appiano gentile l'olandese nei giorni scorsi ha ribatito la sua volontà di lasciare l'Inter ma per ora l'interessamento da parte di alcuni club inglesi in particolare Tottenham e Liverpool non ha portato offerte concrete i dirigenti nerazzurri aspettano con l'idea di investire l'eventuale incasso per affrontare il centrocampo l'obiettivo principale è Paolino del Corinthians sullo sfondo rimane in piedi la suggestione Franky Lampard l'usato sicuro che piace molto anche alla Lazio ci fermiamo per qualche minuto tra poco vi aspettiamo non ci sono aggiornamenti quindi il nostro telegiornale si chiude qui vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.id e t l'edizione delle 20 delle telegiornale poi alle 21.10 lo speciale prelezioni condotto dal direttore Enrico Mentana in studio Fassina Brunetta Cazzola Giannino e Mucchetti è tutto grazie per averci seguito e buona giornata grazie per aver guardato il nostro sito 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 grazie per aver guardato il nostro sito